Non più ritardi nel percorso per la costruzione della Due Mari, lo sostiene in una nota l'Associazione degli Industriali, la quale commenta gli ultimi sviluppi della vicenda. Confindustria giudica con perplessità la decisione del Comune di Arezzo di ricorrere al Tara, rigettando la costruzione della Bretella nel tratto compreso tra San Zeno e San Giuliano. Questo, afferma l'Associazione, nella nota ha comportato il rinvio dell'approvazione del progetto definitivo nella conferenza dei servizi di lunedì scorso. Confindustria comprende la posizione assunta dal Commissario del Governo, meno quella del Comune. In questo senso si domanda per quale motivo il Comune abbia proposto il percorso alternativo di una delle due bretelle solo presso la conferenza dei servizi, invece di inserirlo negli strumenti urbanistici e di proporlo all'ANAS in sede di revisione del progetto. Gli industriali rilevano che i finanziamenti stanziati per il completamento della Due Mari ammontano a più di 500 milioni e che ogni ritardo ulteriore potrebbe farli dirottare altrove, con tutte le conseguenze negative per il territorio. Il tanto agognato completamento della Due Mari nel territorio aretino potrà mai essere realizzato, termina Confindustria.